Come va? Come va? Ben ritrovati, un saluto, buona serata, è lunedì, è quasi andato, dai, ben ritrovati di nuovo, mi raccomando, commentate numerosi qui sotto con il vostro punto di vista, lasciate un bel like se sperate di invertire subito la rotta e iscrivetevi qui se non avete ancora fatto. Vi ricordo anche di prendere il vostro posto, tante prenotazioni già, quindi affrettatevi, qui sotto c'è il numero di telefono, mandate magari anche un whatsapp, la festa del 10 dicembre ore 19 a Pericena, al fil di Seregno, 15 euro, consumazione a Pericena compresa, qui sotto c'è il link, sarà una serata rossonera pazzesca, quindi affrettatevi e prenotate in questo momento. Vi faccio un sondaggio live, perché leggo tanti commenti diversi, perché di natura c'è il pessimista, c'è l'ottimista, c'è quello un po' più equilibrato, se vogliamo, un po' più prudente. Credete ancora che si possa realizzare il sogno scudetto o lo avete abbandonato definitivamente? Da che parte state? Da che parte state? Leggerò qui sotto i vostri commenti e magari apro anche un sondaggio, così abbiamo proprio la percentuale giusta. Ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando, è il nostro Raffaleo che ha scritto così, in inglese, su suo profilo Instagram, lo vedete appunto sul lettino, le terapie, sta recuperando dalla lesione, è un tempo indefinito, però al gerundio ci stiamo arrivando e speriamo davvero che possa esserci per il Borussia Dortmund tra una settimanetta circa, con la Fiorentina a me sembra, ripeto, improbabile, però dai vediamo dove si può arrivare. Speriamo, anche lo scorso anno è il momento più importante, a partire il doppio derby, si fa male Leao, questa volta ci troviamo tutto col Borussia e si fa male Leao. Peccato, 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 ci vorrebbe un giocatore così magari, un bel Boban, oppure là davanti un bel Inzaghi, oppure dietro le punte un bel Savicevic, e beh, ho qua un po' di mie magliette. Allora, Blitz nei giorni scorsi di Moncada a seguire la partita in Portogallo tra Benfica e Sporting per João Neves, 19enne, nato a Tavira in Portogallo, 1,74, rappresentato da Justy Feud di George Mendes, quindi stessa scuderia di Rafa Leao, centrocampista del Benfica, scadenza 2028, quindi molto in là. Lui ha già due presenze, nonostante sia 19enne con il Portogallo, ne aveva fatti 6 con l'Under-21 con un gol, 17 con l'Under-19 con tre reti, centrocampista che è cresciuto appunto nel Benfica, ha promosso recentemente in prima squadra, quest'anno nella Liga Portoghese ha fatto 11 partite, un gol e un assist, in totale 750 minuti. Ha giocato anche tutte le partite di Champions, 4 su 4, con i Benfica che insomma non sta andando un gran che bene, il Champions League è davvero molto 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 male, Mina anche Moncada che lo ha seguito, è chiaro che però lo sforzo non è da poco, visto comunque che è un contratto lungo e Benfica è una bottega cara, però riportiamo le indiscrezioni, le notizie da Radiomarcato, diciamo che c'è Neves, ma non soltanto lui appunto. Vorrei portare pagine, ora parliamo di una grana o di una doppia grana, sicuramente c'è una grana, forse doppia grana, però ecco in questo periodo concedetemi un paio di minuti perché non l'abbiamo fatto dopo le ultime partite, è vero che l'ultima lui l'ha fatta male, però fuori ruolo e il giudizio secondo me non cambia su questo giocatore e secondo me è stata un'ottima intuizione della squadra mercato, parlo di Yunus Musa, io vorrei rimettere un po' la chiesa al centro del villaggio, perché a lui abbiamo chiesto di fare il terzino, il mediano, la mezzala, l'esterno in un 4-4-2, ha fatto diversi ruoli e secondo me li ha fatti con un'esperienza da veterano nonostante abbia appena vent'anni. Lui secondo me ha avuto un ottimo impatto sul Milan, ha fatto anche un assist, lo ricordiamo, quello a Pulisic nella gara di Marassi, ha 32 partite con gli Stati Uniti e devo dire che per un mercato che ha luci belle luminose e ombre, belle scure, secondo me Musa è stata una bella scelta, una bella luce e ricordiamo che appena vent'anni, è arrivato l'altro ieri e davvero in questo caso il meglio deve ancora venire, ma un meglio meglio meglio, perché a vent'anni appena arrivato tu hai dei margini evidenti di crescita. Lui è un gran bel giocatore e secondo me appena fa qualche step a livello di consapevolezza, di esperienza, di conoscenza un po' anche del calcio italiano, dei compagni, deve essere ovviamente anche valorizzato, magari acquisisce un po' di fiducia, secondo me può diventare davvero un centrocampista molto forte del Milan. Io lo vedo già comunque tra i titolari oggi, cioè se vedo che gioca Musa, non dico che aspetta gioca Musa, manca qualcuno, dico bene gioca Musa, l'off-to-sic per me è oggi sicuramente molto più forte, ma è un percorso anche diverso, però per me è fondamentale nel calcio moderno non avere gli 11, avere i 15-16, e se giochi con 3 centrocampo non devi averne 3, ne devi avere almeno 5. da questi c'è sicuramente Musa, ci metto Renders, ci metto l'off-to-sic, ci metto Musa, la partita più bella l'abbiamo fatta con questi 3 in mezzo al campo, quindi per me oggi già lui è un titolare se consideriamo 3. Bisogna metterne altri due, che per me non è crudici, potrebbe essere Adli, e Ove Draogo, piuttosto che il brasiliano, piuttosto che il portoghese che stiamo seguendo, bisogna aggiungere un altro, ne aggiungeremo un altro al più tardi la prossima estate, e vedremo che cosa sarà di Adli con quello che sicuramente arriverà come nuovo tecnico. Quindi è stata un'operazione top, Musa, voluta, aspettato, l'avevamo visto la mondiale, però sai, magari bene, 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 anzi benissimo. A proposito di mercato, ha azzeccato o non ha azzeccato? Io non sono di un partito pro uno, pro l'altro, io sono del carro e partito Milan, punto e basta. Per me esiste questo, quindi io vorrei vincere che ci sia uno o l'altro dirigente, che ci sia uno o l'altro in panchina. Addirittura una delle mie proposte più calde per la prossima stagione è Tiago Motta, che ha un passato interista, ma me ne frega, io voglio vincere, se mi fa vincere Tiago Motta, anzi, è un dito nell'occhio agli altri, no? Quindi per me importa il fine, vincere. Quindi Maldini, non Maldini, non c'entra nulla, lo voglio dire perché magari qualcuno poi fraintende. Torniamo indietro di un anno, le notte dolenti erano invece diverse, lo scorso anno, a parte Ciao, il resto non è stato azzeccato. Secondo me poi, dopo qualche cattivo pensiero, l'ho anche sviluppato e voglio essere trasparente con voi. Cioè non vorrei che a un certo punto, sapete che tra Maldini e Pioli non correva più buon sangue, e non vorrei che ci sia stato anche un po', questo non lo faccio giocare, perché quest'altro magari non lo faccio giocare, o comunque non vorrei, siamo umani, che a un certo punto, ad esempio Adli, che aveva preso Maldini, non sia stato mai valorizzato, perché si era creata una spaccatura tra le parti. In ogni caso, quello che invece è stato un acquisto clamorosamente sbagliato è Divo Corighi, ma adesso parliamo anche non solo di Divo Corighi, che di anni ne aveva 27, adesso ne ha 28, li ha fatti 28 ad aprile, lui è successo che cosa? Che ha fatto malissimo da noi, è andato a giocare poi in Inghilterra, in prestito lo ricordiamo a Nottingham Forest, però c'è un problema, che non sta facendo male di più, sta facendo peggio che da noi, perché ha giocato appena 58 minuti, e si è fatto male, ne ha saltati diverse, è rientrato poi, prima della sosta ha fatto soltanto un minuto, ma lo score suo di quando ha giocato è 19 minuti, 15, 10, 14, 1, quindi è un clamoroso panchinaro. La sensazione, che se continua così, gli ha infradito, le ciabatte con cui giocava qui, le ha portate anche lì, e tra qualche mese torna qui. È un problema, perché poi non c'è il decreto crescita, perché deve stare qui due anni, ha interrotto subito la sua avventura, lo devi piazzare, l'ingaggio è importante, 4, 4 e mezzo, che fai? Che fai? Ti ritorna qui? Poi sono problemi veri, perché un altro anno magari in Inghilterra non riesce a piazzarlo, devi sperare, boh, Turchia, piuttosto che calcio arabo, dove lui però non voleva andare. Quindi è una grana mica da poco. Bisogna sperare che possa switchare, ma sinceramente io non ho speranze. Se il buon giorno si vede dalla mattina, purtroppo al Nottingham Forest, Origi è un disastro, ed è destinato a tornare qui, con dei costi che saranno poi per noi. L'altro giocatore che invece aveva iniziato bene, molto bene, ma che si sta perdendo un po' per strada, purtroppo, e dico purtroppo, lo sottolineo, è Charles de Quetelare, che all'Atalanta, guardando i numeri, non è messo male. 14 partite, 2 gol e 2 assist. Non è affatto male. Però, il tutto è concentrato all'inizio, e lui ultimamente era fermo per un problema al ginocchio. La partita prima aveva fatto 10 minuti, quella prima 25, quella prima con il Genesco è stato sostituito addirittura all'intervallo. Quella prima aveva fatto un autogol, forse invitabile con la Lazio. Da lì, secondo me, è iniziato un po' un periodo di crisi, ma soprattutto la sensazione, che mi viene confermata anche da colleghi che seguono da vicino, l'Atalanta, da Bergamo, è che Gasp non lo abbia mollato definitivamente, non lo abbia scaricato, ma che lo stia trattando diversamente rispetto all'inizio. Non so se perché ha avuto un calo di forma, o perché Gasperini non ci crede più di tanto, però se guardate, giocava sempre, ha iniziato a non giocare più, da quel famoso 8 gol con la Lazio, sostituito addirittura all'intervallo, è stato un segnale. E' un peccato perché lui abbiamo 22-25 milioni di euro con i bonus, che sono un bel acquisto in estate, se poi riesci a ricavarli. Se però va male, che fai? Ti torna, e devi ricollocarlo, a meno che un nuovo tecnico non dica, no, io lo voglio far giocare. Poi dovremmo fare anche un giudizio generale su De Chetelare, perché comunque dopo un anno e mezzo ha fatto poco, anche l'Atalanta non sembra, siamo un giocatore sì leggermente migliore, ma ancora insufficiente. Attenzione però perché dall'estero scrivono che Arsenal e Manchester United comunque oggi sono interessate al prestito di De Chetelare. non credo per gennaio, perché comunque è destinato a finire la stagione all'Atalanta, saranno clamorosi colpi di scena, quanto più per l'estate. E se vi ricordate però, lo scorso anno si parlava dell'Atalanta su De Chetelare già a gennaio. Io mi ricordo molto bene, addirittura a dicembre avevo fatto un primo video dicendo risulta che l'Atalanta, che era stata la prima a interessarsi due anni prima a De Chetelare, stia provando a capire se può prenderlo in prestito. Quindi attenzione perché la tempistica non deve ingannare. Ci si muove molto in anticipo, si fanno sondaggi con Tom De Mulle, la gente, e come un anno fa a dicembre dicevamo l'Atalanta punta De Chetelare e poi è successo, adesso dall'estero, non è questa volta una nostra notizia, a differenza di quella De Chetelare-Atalanta, dall'estero dicono Arsenal e Manchester United, che non sono club così, del cortiletto. Significa che comunque a livello europeo c'è sempre considerazione su questo giocatore che può ancora sfondare, anche perché ricordiamolo ha appena 22 anni. A quel punto devi riprovare prestito oneroso con diritto di riscatto. Io preferirei riprendersi a fare bene con l'Atalanta, preferirei incassare questa stata a 22-25 milioni di euro, dipende se l'Atalanta va in Europa oppure no, e spendere il prossimo anno per un bel giocatore. Obiezioni? Che mi dite di De Chetelare? Qualche speranziella ancora che si incassi ce l'ho ovviamente, su Origi non ne ho, e per il resto vediamo appunto l'evoluzione su Rafa Leao e anche su questo nuovo possibile rinforzo in mezzo al campo, questo Joao Neves. Ditemi anche di Musa, ci tengo a leggere i vostri commenti, a me piace molto, 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 sono del team Yunus Musa. Un saluto, commentate, lasciate un like, iscrivetevi, prenotate il vostro posto, qui sotto c'è il numero di telefono, ovviamente la prenotazione è gratuita. Un abbraccio, vi rimando anche al video precedente.